Ciao a tutti, oggi sono qui per presentarvi i Gateway NMA Wi-Fi di DigitalLiot. A cosa servono? I Gateway NMA Wi-Fi servono a facilitare la comunicazione tra i dispositivi presenti sulla vostra imbarcazione e a ricevere tutti i dati disponibili sulla rete NMEA sui vostri dispositivi mobili. DigitalLiot propone dei Gateway sia per reti NMEA 183 che per reti NMEA 2000. Per quanto riguarda le reti NMEA 183 avremo il WLN10 Smart che è un dispositivo impermeabile dotato di un'antenna Wi-Fi integrata che consente di creare un punto di accesso Wi-Fi tramite il quale ricevere i dati della rete NMEA 183 e dispone di due connessioni filiari. Può essere connesso inoltre direttamente a un dispositivo AIS per ricevere i dati AIS direttamente. Il secondo dispositivo per reti NMEA 183 è il WLN30. A differenza del precedente dispone di più connessioni filiari. Avremo tre ingressi e un'uscita NMEA. Dispone anch'esso di un'antenna interna Wi-Fi e può essere collegato direttamente non solo AIS ma anche GPS per ottenere dati AIS e GPS direttamente sulle app e i software tramite il dispositivo mobile. Per le reti NMEA 2000 invece abbiamo il Nublink 2. Il Nublink 2 dispone di un'interfaccia NMEA quindi è molto facile da installare in quanto può essere collegato tramite l'interfaccia NMEA 2000 a un connettore AT disponibile libero della rete NMEA 2000. Una volta collegato crea il proprio punto di accesso tramite il quale possiamo collegarci con il nostro dispositivo mobile quindi che sia un PC, un tablet o uno smartphone e ricevere tutti i dati tramite Wi-Fi. Può anche collegarsi ad una rete Wi-Fi preesistente sull'imbarcazione, il che è molto utile. Questo è tutto per quanto riguarda i gateway NMEA Wi-Fi. Spero che questo video vi sia stato utile. Se desiderate maggiori informazioni non esitate a consultare il nostro sito web quindi www.digitallot.it Vi ringrazio per avermi ascoltata e a presto. Arrivederci.